Paura, me l'hai visto? Andate un po', India è un pitbull Ramon Lui India è un incrocio con un labrador Eh, sì? Eh Potrebbe essere un amichetto di Max in cui che può giocare Max è il cane di Gianluca Cafiero Eh? C'era, non era scoperto Uh, mi ha dato un bacino Sì Ah Ecco l'India che si è scoperto Eh, se ne aiuto